Partita combattuta ad alta intensità, quella disputatasi oggi allo stadio Grondona di Ponte Decimo tra Rivarolese e Ventimiglia. Pronti via parte il Ventimiglia con Galliera, ma sbloccare la partita al terzo minuto è il gol di Mura, che su Asse di Oliviero si inserisce e porta in vantaggio la Rivarolese. Il Ventimiglia non si arrende. Lo stesso Mura al diciassettesimo sui sviluppi di un calcio d'angolo con un decisivo colpo di testa insacca nuovamente la rete. Il Ventimiglia non si arrende e al venticinquesimo accorcia le distanze Trotti su appoggio di Dominici. Dalla destra lascia partire un tiro che spiazza lo vecchio e gonfia la rete. Ci riprova Galliera, ma rispinge lo vecchio. Si va negli spugliatoi sul 2-1. Il secondo tempo vede nuovamente in avanti la Rivarolese con i tentativi di Oliviero e Chiarabini, ma il risultato si sblocca al quarantatresimo con il raddoppio di Trotti. Poco dopo ancora il Ventimiglia va vicino al vantaggio, sempre col numero 11, con un colpo di testa manda alla sfera alta creando qualche brivido al portiere di casa. Pericolosissima la Rivarolese. Al 77, Mura, insorbiciata, tenta di riaprire la partita, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Rivarolese, che sembrava avesse in pugno la partita, si fa rimontare da un ottimo Ventimiglia. Risultato che rispecchia la prestazione di entrambi le compagini.